Geppino Giacobbe, a che punto è la convenzione per lo stadio Partenio Lombardi? Stiamo definendo gli ultimi dettagli, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, perché proprio su questo sorgono continuamente dei problemi. In più abbiamo cercato di mettere in convenzione l'utilizzo del Partenio B da parte delle società sportive e direttantistiche della nostra città, tra l'altro. I tempi quali sono? I tempi sono abbastanza brevi perché dopo questi dettagli deve passare agli atti di giunta e deve essere approvato in giunta. Ma intanto i debiti pregressi che aveva la società nei confronti del Comune? I debiti pregressi sono nel settore finanziario e stiamo cercando di venirne a capo. Noi stiamo solamente cercando di fare la convenzione in modo tale che l'anno nuovo sicuramente ci sarà una convenzione nuova. Dallo stadio al palazzetto ci sono stati una serie di problemi. Sabato scorso il Basket Club aveva presentato una pecca al Comune per la mancata sanificazione dell'impianto da parte della Sandro Abbate. Poi non si è giocato anche a caso delle infiltrazioni. I nodi sono stati sciolti. Diciamo che la pecca risulta solamente per quanto riguarda la pulizia interna del palazzetto dello sport. Noto che è stato risolto tra tutte e quattro le società sportive. La partita non si è disputata in quanto c'era l'erta arancione nella zona di Avellino e in più c'era un'infiltrazione di acqua che stiamo cercando di risolvere perché penso appena possibile faremo un sopralluogo. Come è stata risolta la pulizia e la sanificazione dell'impianto? Diciamo che le società sportive che ritardavano a pagare hanno pagato il pregresso. Tra cui c'era la Sandro Abbate e invece la Sandro Abbate si è accordata con la Delfest, la palla a canestro Avellino e il Basket Club appunto perché insieme provvedono alla pulizia e alla sanificazione. Sì, tutti e quattro insieme hanno ristabilito il quanto dovuto e si è risolta la situazione. Sì, tutti e tutti e tutti.